Buongiorno a tutti, benvenuti a questo maggio dei libri che ricorre in corrispondenza del settocentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. In questo contesto cerchiamo di collocare alcune riflessioni che avvicinano Dante Alighieri ai numeri, magari anche alla statistica. Parto dalla citazione classica famosa, nel mezzo del cammin di nostra vita. Ebbene, questo verso assolutamente celebre è anche un risvolto in un certo senso demografico, statistico, perché ci dice che al tempo, evidentemente, l'essere nel mezzo del cammin all'età di Dante, in qualche modo, identificava una durata media della sopravvivenza che poteva essere, si dice, nell'ordine dei settant'anni circa. E quindi ci dà un'informazione che è di natura statistica. L'opera di Dante, in generale, si presta in modo eccellente ad essere vista in chiave matematica e in chiave statistica. E a me preme sottolineare come lo sguardo della statistica ci permetta di conoscere anche alcuni aspetti profondi della stessa Divina Commedia, di entrare in qualche modo nella prospettiva del poeta. Per Dante, infatti, come per gli eruditi del suo tempo, i numeri esprimevano l'ordine e l'armonia dell'universo. Ogni numero ha un significato profondo. La stessa costruzione della Commedia segue un preciso ritmo di tipo matematico, che alcuni studiosi, come Grazia Cotroni, hanno descritto in forma anche divulgativa. La Divina Commedia si divide in tre cantiche. Nell'inferno, dopo il primo canto, come un prologo, ci sono 33 canti, nel Purgatorio altri 33 e 33 nel Paradiso. Il totale dei canti è 100. Dante usa i numeri come in telaiatura ritmica dell'opera, che è fatta di proporzioni precise, diverse e di sillabe, che dall'inferno al Purgatorio al Paradiso vanno facendosi sempre più rigorose per trasmettere il senso della transizione dal caos diabolico all'armonia celeste. Ma i numeri sono essi stessi significativi e sono usati in chiave simbolica, secondo codici noti e condivisi al tempo di Dante. I numeri più importanti sono 1, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 33 e 100. La loro simbologia, i loro significati erano noti a tutti, almeno in forma elementare, quindi comprensibile. Per esempio, il numero 1 genera tutti gli altri numeri, per questo rappresenta l'origine di tutte le cose, la perfezione, l'assoluto e la divinità, diciamo allo stesso Dio, è significato di pienezza e completezza, indica anche l'unità di Dio, l'unicità di Cristo, l'unità della Chiesa e del genere umano. Il numero 3? Beh, il numero 3 sono i regni, inferno, pubblicatorio e paradiso, 3 sono le virtute ologali, fede, speranza e carità, 3 le donne che dal cielo corrono in aiuto a Dante, la Vergine, Santa Lucia e Beatrice, 3 sono le guide di Dante nel suo viaggio attraverso l'oltretomba cristiano, Virgilio, Beatrice e San Bernardo. Inoltre, il numero 3 richiama la Trinità, ma il numero 3, così potente, ricorre anche in senso negativo, 3 sono gli animali incontrati nella selva oscura, la lupa, la lonza, il leone, 3 le gole di Cerbero, 3 i volti di Lucifero, 3 i fiumi infernali, 3 infine le principali categorie dei peccati puniti nell'inferno. In ognuna delle cantiche il canto sesto è di argomento politico, nel sesto dell'inferno c'è l'invettiva contro Firenze, nel sesto del Purgatorio c'è la famosa invettiva contro l'Italia definita Serve Italia di Dolore Ostello, nel sesto del Paradiso c'è una polemica che riguarda l'Europa. Il numero 7 è il numero della perfezione umana, intesa come riepilogo completo delle possibilità dell'uomo. Sono 7 i giorni della durata del viaggio di Dante nell'aldilà, 7 i giorni della creazione della terra, 7 i sacramenti, le muse e i vizi capitali. Per finire sono passati 700 anni dalla morte di Dante Alleghieri. La sua opera è viva e la nostra lingua usa di continuo ancora oggi decine di espressioni da lui coniate. Stai fresco, inurbarsi, il bel paese, senza infamia e senza lode, non mi tange, cosa fatta a capo A e così via. Ma per noi statistici c'è qualcosa di comune che va più nel fondo delle cose. Come per Dante, anche per noi ogni giorno i numeri consentono di leggere il mondo, quello di qua giù nel nostro caso, e di cercare di comprendere le regolarità, le comunità, le leggi e forse anche il senso della vita. Grazie. 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 Grazie.